e al suono del gallo alle sette in punto del mattino ci ritroviamo per scambiarci il buongiorno ovviamente e lo facciamo con piacere ormai da 15 anni con la rassegna stampa un'occhiata ai giornali che inizierà tra poco dopo aver visto il santo del giorno e le previsioni del tempo oggi la chiesa cattolica ricorda San Magno il sole è sorto alle 16 a 9 e ahimè guardate come si sono accorciate le giornate tramonterà alle 20 e 10 il bollettino della protezione civile delle marche per oggi prevede cielo al mattino parzialmente nuvoloso lungo la fascia costiera centro settentrionale poco nuvoloso altrove a partire dalle ore centrali della giornata ci saranno addensamenti più intensi sui settori interni con successive estensioni stratiformi verso la fascia costiera avremo al mattino precipitazioni locali rovesci in mare potranno lambire anche la costa centro settentrionale a partire dalle ore centrali della giornata invece locali brevi rovescio brevi temporali per quanto riguarda la giornata di domani domani è giovedì 20 agosto il cielo sarà sereno poco nuvoloso così come nella giornata del 21 mentre ancora tempo buono continuerà a esserci anche per tutto il fine settimana quindi tempo stabile e molto soleggiato e adesso andiamo invece a collegarci con il nostro bagnino Tommy buongiorno Tommy ieri doveva piovere in realtà non è successo niente almeno qui a Fano no niente quindi queste previsioni del tempo fanno acqua da tutte le parti insomma la scienza la meteorologia è una scienza imperfetta chiaramente ma insomma poi il padre eterno decide come vuole beh quello quello sì dai succede a volte anche il contrario specialmente al mare no? che l'aspetto è stata bellissima e poi in dieci minuti fa il putiferio esatto oggi in realtà erano previste sarebbero previste anche al mare in acqua proprio in mare questi temporali ma tu che dici che hai una visuale più ampia di quella che ho io qua allora io vi faccio vedere verso nord che qualche nuvola c'è ecco però rispetto a quello che abbiamo avuto quest'estate queste non fanno paura insomma va bene staremo a vedere via ci accontenteremo di quello che ci dà appunto il cielo grazie Tommy ci vediamo domani allora buona giornata e buon lavoro i giornali sottomonte soccorsi ad ostacoli è tra l'altro una notizia che vi abbiamo dato qualche settimana fa ci siamo occupati con il nostro sito internet proprio di questa di questa vicenda di questo problema che c'è a Noso ovvero di questa pista ciclabile che con le biciclette che vengono parcheggiate ai lati ostruiscono il passaggio delle ambulanze non solo le pattuglie delle forze dell'ordine trovano difficoltà per i controlli problemi anche come dicevo appunto per le ambulanze la sosta selvaggia delle bici sulla ciclabile forma una muraglia che crea in toppie mezzi del 118 e della croce rossa ma a centropagine il Corriere Adriatico oggi decide sempre sulla scia di quella che è l'inchiesta sulle infrastrutture marchigiane e in questo caso sulla velocizzazione della ferrovia adriatica di pubblicare una fotografia che è molto eloquente vedete i binari qui siamo sul tratto di Ancona Nord immaginate quassù Falconara e guardate come sono i binari praticamente sono davvero a zig zag e qui i treni sono costretti ad andare praticamente a 60 km all'ora si farebbe prima scendere Falconara e chi deve andare ad Ancona farla a piedi con le valigie arriverebbe prima ecco questo per dire un po' anche scherzando che è un tratto che rallenta tutto quanto immaginate chi deve andare ad Ancona proveniente da Roma o da Milano ha questo tratto praticamente che rallenta e tarda moltissimo quindi qual è la soluzione? C'è una soluzione che è lì da un paio d'anni ci sono 67 atti, documenti ma è tutto fermo praticamente si tratterebbe di interrare questo tratto di ferrovia di interrarlo e di farlo passare praticamente sotto, di farlo dritto in modo tale che non sottoterra però insomma di interrarlo in modo da renderlo rettilineo e quindi recuperare minuti preziosi sotto invece ci sono anche i soldi, mi pare di più di 50 milioni di euro, ci sono anche quelli manca forse un po' la voglia, la volontà di metterci le mani su tutta questa storia Altar invece per l'ex hotel, la Mancinelli vince il ricorso contro Ricci Rebus rientri per i croceristi dalla Croazia e poi la Lega che fa il report ovvero segnala il segnalatore Bivacchi e Falò al parco Miralfiore sotto contro ordine, niente fiera, sicurezza non garantita a Fano la Giunta ci ripensa e cancella il secolare appuntamento ovvero la fiera di San Bartolomeo Per quanto riguarda invece la politica, la corsa alle elezioni regionali c'è questa incognita del Movimento 5 Stelle che non si vuole fidanzare con il Partito Democratico Crimi, silenzio d'oro, strada in salita per l'Alleanza questo è il titolo La riunione politica lunedì sera non modifica il quadro politico già noto a 48 ore dalla consegna delle liste per le regionali l'accordo con il Partito Democratico è un'ipotesi remota Lo conferma anche il silenzio di Crimi, capo politico dei Grillini interpellato per telefono durante la riunione non ha risposto e ha inviato un sms se non ci sono cose urgenti ci sentiamo domani La fotonotizia invece, qui siamo sulla pagina del Carlino edizione di Pesero, la fotonotizia di oggi è sulla stagione estiva praticamente è salva secondo i dati del turismo il pienone di agosto ha raddrizzato l'estate ma c'è la cronaca in apertura le baby bulle, cioè le ragazzine minorenni sui 15 anni, 15-16 anni bulle nel senso violente seminano il terrore una pesarese di 15 anni picchia a sangue una coetanea a Riccione è stata denunciata con due amiche per lesioni e rapine un bosco e le statue e l'area verde dedicata alle vittime del virus sorgerà vicino al campus a Pesero poi lo sport o meglio la questione dello stadio a Pesero dove gioca la vis solo mille i posti concessi allo stadio e dunque sarà tutto degli abbonati sotto o il centro storico si attrezza oppure sarà svenduto a low cost secondo un'analisi di Confcommercio e poi si parla della formidabile radio che nacque a Pesero negli anni 70 siamo credo nel 76 stereo Pesero 103 la vedremo nel corso della rassegna stampa questa pagina con questo Amarcord che il giornale dedica questa mattina a questa storica radio che non c'è più a Villa Fastigi invece un detenuto furioso manda in ospedale nove agenti si scatena per una videochiamata fallita lancia un pc contro un ispettore botte poi agli altri che ovviamente sono intervenuti dopo covid salta la storica fiera di San Bartolomeo contagio in crescita il comune la annulla non era mai accaduto dal dopoguerra e allora partiamo da qui dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico contro ordine la fiera non si terrà impossibile il rispetto delle norme la giunta ci ripensa e cancella il secolare appuntamento ingestibile l'attrazione di 250 bancarelle scelta che penalizza il già martoriato commercio ambulante però insomma questa è una è un dato di fatto e tutto questo nasce perché non tanto per le persone che vanno al mercato ma per quelli che evidentemente al mercato non ci vanno ovvero i giovani però sono loro in questo momento che hanno fatto risalire i contagi quindi per colpa di uno pagano gli altri tutti gli altri insomma un po' questa vecchia regola quindi però ho visto che ho visto che insomma i fanesi anche ieri nei nostri social network hanno accolto questa decisione non abbastanza sofferta del comune di Fano hanno accolto con favore la decisione del comune di annullare questa fiera e così ha fatto anche Senigallia lo vedremo tra poco la fiera di Sant'Agostino è saltata anche quella ma credo un po' tutte le fiere questo perché? perché appunto è salito il numero di contagi mentre diminuisce l'età dei contagiati siamo intorno ai 35 anni questo significa appunto che stiamo parlando non di anziani o di adulti che non stanno facendo il loro dovere ma sono i giovani quelli che sono ormai a briglie sciolte e decidono di fare un po' il bello e il cattivo tempo allora questo è un po' il quadro dunque la pagina del Corriere Adriatico tra l'altro la sticella dell'allerta scrive Andrea Maduzzi questa mattina sul giornale si è nuovamente alzata e lo rivela l'attenzione l'intenzione di aumentare i controlli anche sui mercati del mercoledì e del sabato quindi mercati settimanali intervenendo appunto sulla gestione anche il Carlino ovviamente non poteva fare diversamente l'apre la pagina di Fano con questa notizia annullata la storica fiera di San Bartolomeo questo è il titolo non era mai accaduto dal dopoguerra d'oggi l'assessore Lucarelli dice l'obiettivo è di tutelare fanese turisti presenti in città e dunque è stata assunta dopo un confronto con Prefettura Regione Asur e categorie il mercato settimanale continuerà dice chiede Anna Marchetti a Etienne Lucarelli Lucarelli risponde sì il mercato settimanale ci sarà torneranno tutte quelle norme sul rispetto della distanza che avevamo suggerito alla ripartenza e che via via sono state un po' abbandonate faremo anche un incontro con i dirigenti dell'ufficio commercio per stabilire tutti gli strumenti da mettere in atto e poi si ne approfitta anche per capire vista la situazione che cosa succederà del Carnevale di Fano Carnevale di Fano che è già finito sul banco degli imputati all'inizio di questa emergenza ricorderete insieme alla Final Eight di Basket a Pesero il Carnevale era l'altro imputato importante molti con il senno del poi avevano detto era meglio non farlo ora che sappiamo com'è andata la storia e com'è andata come si sono evolute le situazioni ora preventivamente la gente si domanda che cosa succederà per il Carnevale di Fano si farà o non si farà immagino molti di voi adesso diranno per carità state buoni lì e lasciate perdere in realtà non è così perché si sta pensando ad un Carnevale evidentemente alternativo con qualche con qualche si deve studiare una soluzione una formula che al momento non è neanche forse ipotizzabile perché il Carnevale di per sé è aggregazione senza aggregazione il Carnevale non è il Carnevale quindi a questo punto piuttosto che forzare la mano sarebbe il caso di passare la mano un po' come si gioca a carte passo un turno e andiamo magari al 2022 ma è un'ipotesi bisognerà vedere tante cose bisogna capire come andranno le cose nei prossimi mesi ma insomma comunque prima aspettiamo che la Carnevalesca individui la data poi la Presidente Maria Flora Gianmariole si confronti con gli altri Carnevali italiani e anche se questo voglio dire dice poco andiamo ecco andiamo sotto nella pagina sotto del resto del Carlinio sempre da Fano contagi la curva è tornata a salire sale la preoccupazione in città addio alla manifestazione dell'estate fanese far rispettare le norme sarebbe stato impossibile e dunque ieri mattina sono state 15 le nuove diagnosi di Covid in regione quindi 15 persone con il Covid 19 certificate 4 nella sola provincia di Pesaro Urbino dove sono attualmente 404 le persone in isolamento domiciliare per essere state in contatto con pazienti risultati positivi al tampone e dopo che la terapia intensiva ha riaperto anche ad un paziente affetto da coronavirus nella città della fortuna sono cominciate le inevitabili polemiche sull'opportunità o meno di organizzare iniziative in cui si concentra la presenza di persone il primo a lanciare l'allarme sull'inopportunità di far svolgere questi grandi eventi è stato il dottor Monaldi dirigente del servizio igiene e prevenzione dell'asul area vasta 1 allora tutto questo è vero però e qui ancora ci prendiamo qualche ora di tempo ma qualche giorno è anche vero il contrario nel senso che se andiamo a analizzare quello che è accaduto dopo la cena dislocata su 9 km di spiaggia a Pesero con la notte delle candele ebbene possiamo dire anche se ripeto ci prendiamo qualche ora in più perché potrebbe venire fuori qualcosa all'ultimo minuto ma ormai i tempi e i giorni sono trascorsi da quell'evento il 10 di agosto oggi siamo al 18 più o meno quindi se doveva nascere un focolaio a quest'ora sarebbe già spuntato in realtà non è successo nulla quindi tutto è andato bene quindi cosa significa che usando il cervello si possono fare anche grandi eventi il problema è usare il cervello e non sempre e non in tutte le situazioni ci sono persone che lo usano quindi chiaro in un carnevale la questione ripeto come ho già detto è diversa perché il carnevale di per sé è assembramento uno lancia le caramelle e già solo per raccoglierle uno salta sopra un altro ce l'ha mucchiata quindi figuriamoci o fai un carnevale senza lancio di dolciumi il che non sarebbe più il carnevale di Fano oppure oppure meglio lasciar perdere e passare la mano al prossimo anno io sono di questa idea ma è un mio parere personale anche dicevamo Senigallia ha deciso di annullare la sua fiera la fiera di Sant'Agostino il sindaco prioritaria dice la sicurezza era in programma alla fine del mese gli ambulanti in arrivo da tutta Italia dicono troppo pericoloso tra l'altro sì c'è anche la questione poi di chi viene da zone magari ad alto alta contagiosità come può essere ambulanti che arrivano da Milano dalla Lombardia eccetera a Senigallia si votano regionali e comunali comizi con le regole anti-covid ecco il regolamento per utilizzare in campagna elettorale sale e spazi pubblici per le campagne elettorali andiamo adesso invece sulla pagina di Fano di nuovo del Corriere si parla di fermo pesca era l'anno buono per cambiare il provvedimento dopo il lockdown ancora pescherecci in porto gli operatori dice è un'assurdità non è bastata la sospensione di attività a cui è stata costretta la marineria fanese a causa del lockdown le disposizioni in vigore hanno confermato anche il fermo pesca annuale privando ancora una volta il mercato della fornitura di pesce nostrano nel mese di agosto a parte quello fornito dal settore della piccola pesca che non può oltrepassare il limite delle tre miglia del tutto scomparsa la cattura del pesce azzurro tutte le volanti sono trasferite ad Ancona e adesso invece sulla pagina del Carlino sempre da Fano si parla della questione della variante che sta facendo perdere il sonno anzi probabilmente l'hanno già perso alcuni residenti di Gimarra e di Caminate variante 5 stelle in trincea con i residenti Ruggeri Marta Ruggeri candidata consigliere di 5 stelle dice stiamo difendendo non le ville dei ricconi ma un patrimonio ambientale che è di tutta la città e dunque continua la protesta ragazzine pestano a sangue una coetanea qui siamo sulle pagine di Pesero del Corriere del Carlino un branco di pesaresi in missione a Riccione picchia una 15enne veronese per divertirsi semplicemente per divertimento cioè un gruppo di ragazzine due residenti a Milano e una pesarese che vive a Fano tutte e tre ospiti della ragazzina fanese o pesarese fate voi dovranno rispondere adesso di lesioni e rapine a un certo punto hanno cercato lo scontro perché di fatto questa è la situazione è bastato un niente per far sì che queste tre ragazzine attaccassero violentemente tre turiste di Verona in vacanza con il padre di una di loro a Riccione a un certo punto parte la spallata tanto per iniziare la rissa quindi quasi certamente di proposito e poi lì cominciano gli sfottò vuole botte dice una di queste diciamo pesarese fanese insomma eccetera intervengono alcuni passanti che a fatica le separano un attimo dopo anche il resto della gang si muove per andare a dar manforte a una di queste ragazze le tre veronesi sono spaventate a morte non hanno mai visto tanta ferocia da parte di queste loro coetanee ma è con una sola solo di loro che il gruppo se la prende e iniziano a picchiarla sono in tre tre giovanissime che la prendono per i capelli la sbattono a terra e la prendono a calci le due amiche sono troppo spaventate cercano di intervenire ma non ci riescono queste altre due di Verona a mettersi di nuovo in mezzo poi è la gente mentre le tre scatenate tra cui questa ragazzina di Pesero Fano continuano a urlare ti ammazziamo ti ammazziamo di botte insomma c'è tutto il racconto poi che prosegue ma non tenete nulla in mano mentre leggete perché potreste romperlo e quindi perché effettivamente a leggere questo questo articolo dove tra l'altro finisce con loro queste tre ragazzine che vengono portate ovviamente in caserma i militari le hanno denunciate per lesioni e per rapina perché nel corso dell'aggressione è stata strappata anche la catenina d'oro al collo che è saltata fuori che non è più saltata fuori ora se la vedranno con il Tribunale dei Minori magari vedete in questi casi forse più che portarle queste tre ragazzine portarle in caserma magari qualche notte in carcere così tanto per forse le avrebbe fatte un po' ragionare riflettere eh capire ma ho voluto mettere quest'altra pagina del resto del carino accanto a quella delle tre ragazzine che probabilmente ancora non hanno imparato come si sta al mondo con quest'altra storia che fa da controaltare e che un attimo invece ci dà speranza ci dà gioia è la storia di Giorgia la storia di questa 22enne affetta da Atassia di Friedrich ed è riuscita ad avere la qualifica nonostante sia costretta su una sedia a rotelle ecco leggendo questa storia invece vi viene voglia di prendere il cuore di stringerlo attorno forte forte perché è una storia che commuove e Giorgia ce l'ha fatta adesso si può dire è un'istruttrice di nuoto arriva una storia da Petriano lei è un'atleta una studiosa di sport giudice di gare è ora anche appunto istruttrice si chiama Giorgia Righi urbinata di 22 anni affetta da questa malattia raggiunge un altro obiettivo nel proprio percorso attraverso il mondo del nuoto un percorso eccezionale visto che diversi anni fa la malattia la costrinse sulla sedia a rotelle limitandone autonomia e movimenti ma con tenacia e ostinazione Giorgia è sempre andata avanti e ora passo un passo alla volta sta smentendo chi le consigliava di mollare allora visto che forse sono stato un po' troppo forte togliamo le tre ragazzine dal carcere dove avevo detto di metterle e magari le facciamo passare qualche giornata con Giorgia che forse è meglio che dite facciamo così togliamole dal carcere perché lì magari rischiano di diventare ancora più cattive aggressive qua invece secondo me funzionerebbe meglio un qualche giorno insieme a Giorgia le mandiamo tutte e tre lì e infatti ecco che cosa è successo in cella l'altro giorno a Villa Fastigi la cella diventa un ring nove agenti in ospedale il Tyson di Villa Fastigi è un 23enne extracomunitario ha lanciato un computer il pc contro gli agenti in divisa perché non riusciva a fare la videochiamata insomma si è spazientito e questo qui ha preso ha tirato questo computer addosso ad un agente di polizia chiaramente i colleghi dell'agente sono arrivati ad Armanfort a questo agente a questo collega però poi gli insomma è successo quello che potete immaginare la cella è diventata un ring e quindi botte un po' di qua un po' di là e il sindacalista dice rischiamo aggressioni quasi ogni giorno per calmare gli altri però subiamo noi allora adesso apriamo la questione del covid-19 torniamo a parlare un attimo facciamo il punto della situazione sul coronavirus il report che cambia il volto cambia volto al coronavirus crolla a 35 anni l'età media dei contagiati aumenta il numero di positivi asintomatici i focolai anche a Fidenze alla Maddalena innescati da giovani rientrati da vacanze all'estero dunque l'età media dei contagi ma questo succede un po' in tutta Italia nell'ultima settimana scende drasticamente siamo a 35 anni a dirlo è l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità e l'andamento dell'età mostra a partire dalla fine di aprile un chiaro trend in diminuzione che passa da oltre 60 anni nei primi due mesi dell'epidemia a 35 nell'ultima settimana anche per questo va detto che la mortalità cioè le persone che muoiono di coronavirus è diminuita perché essendo diminuita anche l'età di coloro che si contagiano chiaramente essendo più robusti di un anziano che magari ha anche qualche patologia pregressa insomma è diminuita anche la mortalità poi va da sé che la storia ci insegna che ci sono anche quarantenni che finiscono in ospedale magari senza patologie pregresse che se la sono vista brutta e hanno rischiato di grosso però sono casi rari sono ancora pochi gli scali invece predisposti a fare il test a chi fa ritorno in Italia sulla pagina del Corriere Adriatico Storti dice ancora 10 giorni per misurare l'effetto dell'estate quello che vi dicevo prima a proposito della cena che c'è stata a Pesaro della notte delle stelle insomma ancora bisogna aspettare qualche giorno qualche ora anche se di fatto siamo ormai usciti dal periodo di incubazione del virus se qualcosa doveva succedere alla notte di Pesaro siccome l'incubazione è tra i 7 e 9 giorni ecco ci siamo oggi è il 19 oggi sarebbe l'ultimo giorno ma insomma possiamo dire che il pericolo è davvero scampato i ricoverati sono saliti da 13 a 14 8 solo a Marche Nord quindi a Pesaro i contagiati divisi tra Ancona Pesaro e il Piceno dove negli ultimi giorni il numero nell'area di Ascoli Piceno è salito intanto però chi lavora con l'estate può dirsi soddisfatto tutto sommato perché e qui lo fa per tutti Oliva che rappresenta gli albergatori pesaresi il quale dice stiamo andando bene gli hotel sono pieni con il 99% di famiglie italiane il bonus vacanze è stato utilizzato da 1 su 5 la stragrande maggioranza della clientela arriva dalla Lombardia e anche dal Veneto secondo il Presidente dei gestori delle strutture ricettive hanno attirato gli ottimi prezzi e anche la qualità della vita e poi l'arenco l'arenco che abbatte la vecchia sede realizzerà 10 appartamenti di lusso nella zona del mare i lavori inizieranno la settimana prossima in attesa dell'asta dell'hotel Cruiser in Viale Trieste e della palazzina con 9 appartamenti e 3 negozi 100 metri dopo in direzione porto edifici che hanno gli stessi valori immobiliari nonostante la smirosurata differenza di cubature nell'area mare della città parte la prossima settimana il primo intervento edilizio che ha un lungo passaggio di varianti perché da hotel poi diventato uffici e che adesso cambia di nuovo destinazione per diventare una palazzina residenziale si trova in Viale Venezia ed è di proprietà della società Renco che lì aveva la vecchia sede prima di trasferirsi vicino a dove è adesso insomma vicino alla strada per andare a prendere l'autostrada e quindi questa è la notizia che troverete sul resto del carrile di questa mattina poi c'è un'altra iniziativa che trova spazio sulle pagine di Fanno del Carlino ed è una mostra una mostra nel segno dell'inclusione è una mostra bella diffusa così come si usa dire oggi dal sapore buono dell'inclusione quando si parla di inclusione parliamo di persone che ovviamente sono persone cosiddette più che diverse io le definirei speciali come dico sempre sono ragazzi speciali non sono diversi forse siamo noi diversi a non capirli ma comunque sono ragazzi speciali è davvero una bella iniziativa come dice e come scrive Sandro Franceschetti questa mattina ed è una praticamente una rassegna che così come c'è stata nel 2019 con collage di grande impatto cromatico quest'anno il laboratorio artistico della Coala che è questa cooperativa Handicap e Lavoro con il sostegno del comune di terre roveresche ha deciso di realizzare delle opere dei mosaici ok e siccome poi c'è la questione del covid non si può fare in un'unica l'esposizione in un'unica sala espositiva bensì in più come si dice location in più punti quindi le opere che fanno questi ragazzi si possono vedere nella banca di credito del paese nel municipio nella farmacia nella macelleria insomma un po' dislocate qua e là e sono dei ragazzi come dicevo sette sotto la guida del maestro Danilo Conte e questi ragazzi ci sono anche i nomi i cognomi che Sandro Franceschetti il giornale pubblica questa mattina sul giornale e questa è una fotografia che riguarda credo l'anno scorso ecco o anche quest'anno questo è un mosaico quindi vedete il crocifisso Gesù con realizzato con la tecnica del mosaico ora Pesaro ricorda invece una delle emittenti probabilmente più amate dai pesaresi Stereo Pesolo 103 una radio che non c'è più è una radio che però ha fatto la storia delle radio libere in Italia l'estate era quella del 1976 è un'estate indimenticabile per decine di giovani il loro desiderio di conquistare l'etere diventava realtà e così cambiarono anche molte vite e questa mattina lo ricorda Luigi Di Otallevi in questa pagina in questo articolo dove appunto c'è tra l'altro anche questo registrato questo bobinone straordinario non mi ricordo adesso come si chiama va bene comunque sia l'inizio fu davvero avventuroso con pochi mezzi tanti sogni poi tutti si accorsero di loro e arrivò anche la pubblicità il palinsesto diventò presto ricco ogni programma aveva una sua sigla e anche tanti fan tanti fan che seguivano le trasmissioni radiofoniche tutto iniziato nella cantina di Claudio Conforti in Viale Trieste come al solito si comincia dalle cantine tutte le grandi cose le grandi avventure nascono nelle cantine nei garage anche a livello nazionale anche a livello mondiale basta vedere come è nata la Apple come sono nate i grandi colossi anche dell'informatica tutto dalle cantine e tutto dai garage e poi lì si è passati a un paio di sedi nuove e tutto il racconto appunto in questo articolo che troverete sul giornale sul carlino di questa mattina a Urbino invece medaglia Riccardo tu mi devi fermare perché io ho preso eh do perché se no io vado avanti fino domani mattina allora la messa non è ancora iniziata però io mi devo fermare grazie per averci seguito mi scuso perché ho sottilato lungo c'è la messa in diretta da 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 noi ci vediamo domani mattina anzi stasera con il telegiornale delle 20 e 30 arrivederci da 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 Autore dei sovrapposti